La leader del Front National Marine Le Pen ha visitato a sorpresa il centro di identificazione ed espulsione di Vincennes, denunciando una situazione di inflazione e di richieste di asilo a fronte di un budget ridotto per affrontare l'immigrazione clandestina. I fondi previsti per combattere l'immigrazione clandestina e concessi ai centri di identificazione sono stati ridotti, ha sottolineato Le Pen, e quindi non è possibile dire che stiamo rafforzando questo settore, che stiamo accelerando i rimpatri e allo stesso tempo che abbasseremo il budget necessario per farlo. Assistiamo a una inflazione di questa immigrazione, una inflazione della domanda di diritto ad asilo, che appare come una nuova filiera di immigrazione clandestina, ha aggiunto Le Pen. In secondo luogo è un nuovo settore di immigrazione clandestina che diventerà legale, perché tra gli appelli e le decisioni non rispettate, alla fine tutte queste persone rimangono sul territorio nazionale.